10 ottobre domenica buongiorno a tutti e ben trovati anche oggi puntuali alle 7 per il nostro appuntamento con la rassegna stampa tra poco andremo a scorrere assieme le prime pagine dei quotidiani nazionali poi la stampa locale prima però uno sguardo al meteo allora subito alcune immagini e che ci arrivano dalla nostra regione cominciamo con il monte lussari ecco qua una una bella immagine del borgo illuminato dalle luci artificiali e in questo momento sul lussari il termometro segna meno 3 gradi e 7 decimi siamo sotto zero dunque in cima allussari a tarvisio quattro decimi di grado sopra lo zero a sappada meno un grado e mezzo nove decimi di grado sopra lo zero a forni di sopra siamo sotto zero anche sul monte zoncolan meno due gradi e mezzo meno sei e decimi di grado sul piancavallo e poi è scendendo verso la pianura tolmezzo cinque gradi e nove decimi a udine quattro gradi e quattro a pordenone il termometro segna quattro gradi e nove decimi a gorizia undici gradi e sette sei gradi e tre decimi a cividale undici gradi a cervignano e poi andiamo a a trieste dove il termometro segna dodici gradi e quattro decimi in questo momento con un cielo un po' nuvoloso trieste oggi è al centro dell'attenzione per la barcolana e ancora a grado dodici gradi e quattro decimi con una temperatura del mare di sedici gradi e quattro undici gradi e sette a lignano e anche qui la temperatura del mare segna a quindici gradi e un decimo il cielo è nuvoloso sul friuli venezia giulia un po' di più e sulla costa un po' di meno in montagna in queste prime ore del giorno ma adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per capire come proseguirà questa domenica per quanto riguarda il meteo ben trovati gli amici di udinese tv situazione per la giornata di domenica volta il bel tempo su tutto il friuli venezia giulia una bella giornata soleggiata sulla nostra regione quindi ampia apertura del cielo possiamo osservare nel dettaglio pordenone udine perché splenderà il sole una bella giornata anche in montagna sulla carnia minime però frizzanti durante la notte scenderemo anche al di sotto dei 7 8 gradi in aperta pianura per quanto riguarda il pomeriggio valori compresi tra i sedici e diciassette gradi non di più venti ancora freschi molto freschi dai balcani per quanto riguarda invece gorizia e trieste una giornata soleggiata bella su tutto il triestino ma osservate anche qui le temperature prettamente autunnali dettagli maggiori li trovate scaricando l'app gratuita di trebi meteo e dopo le previsioni del tempo siamo pronti per iniziare la nostra rassegna stampa alle mie spalle le prime pagine dei quotidiani nazionali dove oggi troviamo in apertura le proteste contro il green pass e anche le tensioni e le violenze che ci sono state in diverse parti d'italia allora andiamo a vedere subito la prima pagina del corriere della sera che oggi è titola così la guerriglia urbana dei no vax roma assalto alla cgl cariche e fermi la condanna di draghi intimidazioni inaccettabili tensione anche a milano solidarietà di mattarella al sindacato che apre tutte le sedi landini parla di squadrismo la morgese atti eversivi la lega chiede le dimissioni della ministra e qui vediamo una foto che ci arriva proprio da roma il corteo dei novax si scatena la guerriglia urbana con l'assalto alla sede della cgl cariche della polizia fermi e contusi e poi vediamo l'articolo di fiorenza sarzanini dal titolo il livello di guardia le scene dei manifestanti che protestano contro l'obbligo di green pass tentando l'attacco ai palazzi delle istituzioni sono immagini che sfregiano un intero paese ma soprattutto offendono le vittime di questa pandemia i cittadini che si sono ammalati e ancora portano i segni e le conseguenze del virus ancora vediamo anche di spalla i nuovi fuochi da spegnere scrive ancora il corriere della sera che propone anche un intervista al ministro gelmini che dice regole decise tutti assieme ancora vediamo anche le altre gli altri titoli a centro pagina c'è un articolo che ci arriva dall'austria scandalo in austria lascia il cancelliere kurz sotto accusa i soldi pubblici usati per i sondaggi il cancelliere austriaco sebastian kurz si è dimesso travolto dall'inchiesta sulla corruzione accusato di aver favorito con fondi pubblici sondaggi favorevoli al suo partito le accuse sono false e lo dimostrerò ha detto kurz che ha proposto che a succedergli sia il suo ministro degli esteri e compagno di partito alexander schallenberg per quanto riguarda sempre gli esteri vediamo ancora il caso cina che con la minaccia di xi jinpin di riunificare taiwan con la cina dalla prima pagina del corriere della sera adesso andiamo su repubblica e vediamo anche qui assalto squadrista al lavoro titolare pubblica in apertura migliaia di novax e neofascisti prendono in ostaggio il centro di roma e devastano la sede della cgl lega e fratelli d'italia accusano la morgese per la gestione della piazza la replica vedo segnali eversivi queste le parole del ministro dell'interno solidarietà di mattarella e draghi alandini e taiani dice no alla violenza questa è l'apertura di repubblica di oggi poi abbiamo altri articoli che analizzano la situazione per chi attaccano il sindacato scrive repubblica l'assalto alla sede della cgl da parte dei novax ricorda gli anni più bui della nostra storia poi anche su repubblica vediamo l'editoriale di maurizio molinari sull'altra notizia del giorno taiwan epicentro di una sfida globale con appunto la minaccia di xi jinpin taipei saranostra guai agli oppositori tornando in italia il documentario rai sulla strage di capaci quelle immagini mai viste del cratere di capaci ancora dalla prima di repubblica andiamo adesso sulla stampa squadrismo nero assalto alla capitale titola la stampa diecimila manifestanti in piazza poi la frangia estremista devasta la sede del sindacato scontri e cariche tensioni anche a milano militanti di forza nuova guidano l'attacco alla sede della cgl guerriglia a roma la condanna di mattarella e draghi il premier parla di intimidazioni inaccettabili ancora vediamo anche la prima pagina del fatto quotidiano green pass piazze piene e coccodrilli scrive il fatto quotidiano cortei in tutta italia assalti fascisti a roma venerdì scatta il decreto legge industriali e presidenti leghisti del nord piangono solo ora perché cinque milioni di lavoratori staranno a casa è questa è la lettura del fatto quotidiano andiamo anche sulla prima pagina del manifesto che titola marci su roma migliaia di no green pass manifestano in piazza del popolo al grido di draghi boia e libertà gruppi di squadristi fascisti assaltano la sede nazionale della cgl e puntano su palazzo chigi pomeriggio di guerriglia nel centro di roma chiudiamo anche il manifesto e andiamo a vedere adesso la prima pagina del eh gazzettino diamo uno sguardo a nord est vediamo anche qui il tema del green pass in apertura muro del eh governo anche le regioni temono il caos dal quindici giorgetti con salvini il problema esiste no di palazzo chigi novax assedio e disordini a roma assalto alla cgl condanna di draghi e dei leader politici che dicono appunto vergogna e poi ci sono le regole per il green pass nel settore pubblico pronte le nuove linee guida elaborate dai ministri brunetta e speranza per il pubblico impiego saranno in vigore da venerdì quindici green pass obbligatorio per tutti i dipendenti e visitatori eccetto gli utenti degli uffici eh pubblici e poi vediamo in veneto terza dose agli over sessanta il veneto è pronto via alle eh prenotazioni il ministro scusate l'assessore eh alla sanità lanzarine dice platea di un milione e mezzo di persone a Padova due su tre fragili rifiutano il richiamo la ULS3 ha convocato 4.500 soggetti definiti fragili eh per eh la somministrazione della terza dose solo 1.400 aderiscono e poi ancora centropagina per la cronaca paura a San Vito frana sopra il eh paese la montagna si sgretola le montagne belunesi si sgretolano nube di eh detriti la vediamo proprio in eh questa eh foto ancora una notizia di cronaca nel taglio basso si torna a parlare dello scandalo del Mose la Corte dei Conti contesta a Galan altri centocinque mila eh euro. Chiudiamo il gazzettino rimaniamo a nord est con la prima pagina del Corriere del Veneto questa è l'edizione di Treviso e eh Belluno e vediamo anche qui in prima pagina il Green Pass lo scoglio dei eh tamponi covid point e farmacie manca la copertura per i trecentomila lavoratori Novax in vista del quindici ottobre si cercano vie alternative ma i medici di base non ci stanno noi non li faremo ed è caccia agli eh infermieri. Ancora vediamo a centropagina una tragedia nel Bellunese volo di quattrocento metri muore davanti al eh marito esperta di montagna cinquantaquattro anni perde l'equilibrio scendendo da una cima precipita per quattrocento metri e muore successo nel Bellunese era una appassionata di eh arrampicate. Ancora vediamo anche qui eh di spalla la Corte dei Conti batte cassa dall'ex doge Galan per quanto riguarda il eh processo eh sul eh Mose e poi eh per la cronaca vediamo la mamma si è ripresa Davide il bimbo rapito eh lo eh ricordenete un parente ha detto è scosso e eh provato. Chiudiamo anche il Corriere del Veneto e ehm rimanendo sulla stampa nazionale andiamo a vedere anche le altre prime eh pagine degli altri eh quotidiani andiamo sulla prima di Libero e torniamo sul tema eh del delle violenze eh della guerriglia urbana di ieri. Libero titola la guerra dei cretini. Il covid non c'entra. Capitale devastata da violenti travestiti da Novax. Scontri con la polizia arresti e feriti. Distrutta la sede CGL. Polemiche sulla gestione eh la Morgese. E poi eh vediamo eh dal Green Pass siamo passati al gran caos scrive ancora eh Libero. Andiamo anche sulla prima pagina del giornale e vediamo anche qui violenza no Green Pass, caos a Roma. Estremisti infiltrati tra i manifestanti, bombe carta e scontri con la polizia. Cortei sotto Palazzo Chigi assediata a sede della CGL. Draghi dice eh inaccettabile. E poi vediamo l'articolo di Augusto Minzolini che parla dei danni eh dell'ignoranza. Ancora andiamo anche sulla prima pagina della verità che eh apre con ehm un'altra eh notizia con questo titolo con Conte abbiamo un premier amico ecco l'SMS di di donna ai suoi eh clienti appena Giuseppe Salì a Palazzo Chigi nel duemiladiciotto l'avvocato al centro delle indagini per traffico di influenze espresse la sua gioia. Lo stesso legale è stato coinvolto da un immobiliarista per risolvere un problema con la Raggi e la sindaca sbloccò la eh situazione. E poi vediamo nel taglio alto alla buon'ora adesso tutti dicono che il Green Pass è un gran caos e poi per quanto riguarda appunto le violenze migliaia contro la card idioti contro la eh CGL scrive la eh verità. Chiudiamo anche questo quotidiano e andiamo a vedere adesso la prima pagina del sole ventiquattro ore in apertura il piano nazionale di ripresa e resilienza a rilento eh scrive il sole ventiquattro ore ripartito il cinquanta per cento eh dei fondi secondo il rapporto Ance fase due del recovery eh sud in testa con il quarantatré per cento delle risorse il nord al quarantadue il centro al palo con il quindici per cento campagna prima regione poi Lombardia e Veneto bene i ministeri di giustizia e infrastrutture male salute e transizione ecologica questo per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi del eh piano nazionale di ripresa e eh resilienza e poi anche qui vediamo Green Pass scontri a Roma assaltata la serie della CGL solidarietà da eh Mattarella. Ancora per quanto riguarda lo sport lo sport in tv eh pallavolo in questo caso via alla piattaforma tv unica riparte il campionato venti milioni di eh investimenti. Chiudiamo anche il sole ventiquattro ore andiamo a vedere adesso la prima pagina della gazzetta dello sport vediamo in eh apertura eh si parla del Milan del mercato del Milan Milan sempre più alto i rossoneri lavorano ai rinforzi il bomber rivelazione del Pisa eh Lucca sulle orme di Ibra e Giraud Adli o Favre uno arriva eh subito e vediamo appunto Milan sempre più in alto è riferito alle altezze eh dei eh giocatori eh rossoneri Ibraimovic centonovantacinque centimetri giro centonovantadue e adesso si guarda a Lucca che supera i due metri di altezza due metri e un eh centimetro questa l'apertura della gazzetta dello sport poi spazio ovviamente anche alle altre eh notizie oggi torna in campo la eh nazionale per la eh finalina della Nations League contro il Belgio forza ragazzi Locatelli Raspadori Italia ringiovanita Belgio senza Lukaku nel mondiale la Svizzera nostra rivale vince con la eh Irlanda del Nord due a zero a eh fatica e poi invece la finale della Nations League che vedrà di di fronte Spagna e Francia tiki taca o alta velocità Spagna Francia a San Siro rabbiò positivo al eh covid nel taglio alto vediamo anche il mondo dei eh motori chance per Stappen Leclerc terzo all'attacco il gran premio della eh Turchia eh Pol eh per Bottas. Chiudiamo adesso anche la prima pagina della gazzetta dello sport che dedica ampio spazio anche all'iniziativa eh delle giornate della eh gazzetta dello sport a Trento eh si parla un po' di di tutto di rilanciamo il calcio eh poi eh anche eh dell'atletica con eh Tamberi in tante giornate dedicate allo sport. Allora chiudiamo la gazzetta sulla quale ritorneremo poi eh se avremo ehm un po' di tempo adesso andiamo sui quotidiani locali andiamo su Piccolo, Messaggero Veneto, Gazzettino, cominciamo con il Piccolo, Piccolo di Trieste, dicevamo eh Trieste protagonista oggi con la Barcolana, a Trieste torna a vivere lo spirito eh della Barcolana. Iscrizioni ai livelli pre-pandemia mille seicentocinquanta scafi in golfo, meteo, vento e nuvole e si parte alle dieci eh e trenta. E questa è l'apertura del Piccolo di eh Trieste. Chiudiamo il Piccolo, andiamo adesso sulle pagine del Gazzettino, il Gazzettino del Friuli, andiamo sulla eh pagina dedicata alle cronache locali, ecco qua in apertura si parla eh di ehm Covid, caccia ai lavoratori di scorta dal quindici ottobre, certificazione obbligatoria, le fabbriche si cautelano e cercano addetti interinali per le eh sostituzioni. Il senatore Dalmas dice pagare i test ai non vaccinati un'offesa. Terza dose in partenza anche per i sessantenni. Domani il eh vertice. Manca sempre meno la scadenza del quindici ottobre quando il Green Pass diventerà obbligatorio per accedere a qualsiasi luogo di lavoro e quando le imprese del territorio si dovrà si troveranno di fronte alla possibilità concreta di dover rinunciare a un numero ancora imprecisato di lavoratori non in possesso della eh certificazione ovviamente per scelta. Ecco perché già negli ultimi giorni è partita la caccia ai sostituti nelle tante agenzie interinali che operano in Friuli Venezia eh Giulia. E poi eh vediamo ehm di di spalla senza pass i Novax restano a casa un tantam come sempre su nato su Telegram in programma una manifestazione contro il Green Pass che si annunciava sempre a detta dei promotori decisiva e finale. Il problema è che i Novax friulani a Roma non ci sono mai arrivati non sono nemmeno partiti perché il pullman che doveva portarli non c'era eh più mancava appunto il Green Pass dei eh viaggiatori. Ancora le altre notizie a centro pagina un'anticipazione delle news sportive la difesa quattro va messa a punto ieri in amichevole due a uno al Tabor eh Sejana poi andremo a rivedere anche le immagini dell'amichevole eh di ieri ma tornando alla cronaca vediamo a eh Fagagna una donna è morta seguito di un incendio che è divampato nella propria abitazione anziana muore nel ruogo della casa la vittima Eliana Comuzzi settant'anni ex infermiera l'allarme dato dai eh vicini. a Pasean di Prato imprenditrice rapinata davanti a casa avevano il volto coperto da una mascherina hanno avvicinato l'imprenditrice sulla porta di casa a Pasean di Prato e le hanno strappato la borsetta. Poi la eh fuga. Questa una delle notizie di cronaca della giornata eh di ieri. Adesso facciamo un piccolo break con la nostra rassegna stampa e andiamo a vedere le altre news di cronaca eh del della giornata di ieri nelle nostre flash news. Avevano il volto coperto da una mascherina e il cappello calato sulla fronte. L'hanno avvicinata mentre stava rientrando a casa. Poi le hanno strappato la borsetta e sono fuggiti. Erano due bandite i quali ora stanno dando la caccia ai carabinieri della compagna di Udine. L'episodio è accaduto nella tarda serata di venerdì in comune di Pasean di Prato vittima una imprenditrice residente nel paese alle porte del capoluogo friulano. Secondo quanto la stessa ha raccontato i militari dell'arma mentre alle 22.30 stava rincasando i due l'hanno avvicinata repentinamente sul varco del cancello. Diverse persone sono accorse il suo aiuto dopo aver sentito le grida. Ora i carabinieri stanno cercando immagini dalle telecamere di videosorveglianze. Sempre nella notte tra venerdì e sabato sono tornati in azione i ladri di rame ad essere presa di mira un'azienda che tratta materiali metallici a Pavia di Udine. I malviventi ben organizzati sono riusciti ad introdursi all'interno del cortile del capannone dopo aver tagliato una rete di protezione asportando 30 quintali di oro rosso per circa 22.000 euro di valore, indagano i carabinieri. Gli agenti delle volanti dell'acquistura di Udine nel pomeriggio di venerdì hanno denunciato in stato di libertà uno straniero per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo al parco Moretti un agente ha notato il giovane alzarsi da una panchina e nascondere qualcosa in una fessura di un albero per poi scappare. L'agente ha recuperato quanto occultato un bilancino di precisione e uno smartphone e solo in un secondo momento l'equipaggio ha raggiunto l'uomo. Si tratta di un afgano 18enne domiciliato in città trovato poi in possesso di un grammo di hashish. Tre i gravi incidenti accaduti oggi in Friuli a Godia, motociclista di 32 anni residente a Faedis, ha perso il controllo della sua motocicletta Suzuki 1000 ed è rovinato a terra. Ferito gravemente è stato intubato e trasportato in ospedale a Udine. A Chiaicis di Verzegnes invece scontro tra una motocicletta e una bicicletta lungo la Provinciale 1. Il ciclista è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia con l'elicottero, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Il motociclista è trasportato in ambulanza a Tolmezzo. Infine a Carpeneto di Pozzuolo in mattinata una Fiat 600 è uscita autonomamente di strada il leso, il conducente. Torniamo sulla prima pagina del Gazzettino del Friuli e vediamo sempre di spalla ancora le polemiche per il caso NET, il PD scatena la polemica, scrive il Gazzettino. Andiamo nel taglio alto dove si parla della situazione economica delle famiglie del Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia una famiglia su cinque vive in condizioni di povertà. questo è il ritratto fornito dall'IRES sulla base delle dichiarazioni fatte dalle famiglie friulane dopo la fase più dura del Covid sulla base delle dichiarazioni ISEE. Allora andiamo a vedere il servizio che ci fornisce qualche dettaglio, qualche numero in più proprio sui risultati di questa indagine. Dichiarazioni ISEE in Friuli Venezia Giulia una famiglia su cinque in disagio economico riferisce ricercatori di IRES FVG Alessandro Russo su rielaborazioni di dati IMS. Nel 2020 in Friuli Venezia Giulia i nuclei familiari che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE, uno dei principali criteri di accesso alle prestazioni sociali erogate dagli enti pubblici, sono stati quasi 154 mila, circa mille e meno rispetto all'anno precedente a cui corrispondono oltre 425 mila residenti, poco più di un terzo del totale regionale. Per oltre un quarto si tratta di nuclei composti da una sola persona. La regione, riferisce Russo, è stata l'unica in Italia in cui sono diminuiti i nuclei con ISEE rispetto al 2019, una dinamica condizionata dalla provincia di Trieste, la sola dove si è registrato un forte calo. Il 2019 al contrario aveva fatto segnare un notevole incremento sia a livello regionale sia nazionale, soprattutto per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Le famiglie che in regione presentano una situazione più critica, con un ISEE inferiore ai 6.000 euro, sono dunque poco più di un quinto del totale, il 21,7% nel 2020, una su cinque risulta quindi in disagio economico. Per quasi la metà si tratta di nuclei composti da una sola persona. La percentuale di famiglie con la situazione più critica sale al 27,3% in provincia di Trieste, mentre in quella di Pordenone si rileva al valore più basso, 17,6%. Solo il 13,3% dei nuclei familiari, riferisce ancora il ricercatore di IRS FWG Alessandro Russo, presenta un ISEE superiore a 30.000 euro. Dal 2016 a oggi il peso delle famiglie, con ISEE inferiore a 6.000 euro, è sceso dal 28,1% al 21,7% e in maniera speculare quelle con un indicatore superiore a 20.000 euro sono salite dal 23,5% a quasi il 31%. Più in generale, negli ultimi anni sono aumentate le misure nazionali e regionali a cui viene collegato l'indice ISEE, per esempio bonus bebè e carta famiglia regionale. E pertanto si è allargata anche la platea dei nuclei richiedenti, che non è evidentemente composta solo da famiglie in difficoltà economica. Nella nostra regione la quota di famiglie proprietarie dell'abitazione sul totale dei nuclei con ISEE è la più elevata a livello nazionale ed è pari al 43,1%. Adesso ritorniamo sulla prima pagina del Gazzettino del Friuli, nel taglio basso si parla di evocazioni e nuovi diaconi, cinque giovani con la vocazione a un passo dal sacerdozio, oggi in cattedrale la festa grande per l'Arcidiocesi di Udine, scrive il Gazzettino. E poi vediamo Nautilia, Nautilia che disegna il futuro delle barche, la rassegna, aprirà i battenti sabato prossimo ad aprilia marittima. E poi si parla di calcio, di campionato carnico in Carnia, il pallone vale 3,6 milioni e quanto emerge da uno studio promosso dal commercialista Alberto Rigotto. Allora andiamo a sentire proprio le parole di Alberto Rigotto che ci spiega i risultati di questo studio. Qual è lo scopo dello studio che avete realizzato sul campionato carnico che ha delle sue specificità? Lo scopo è stato molto semplice, era quello di fare un'analisi molto dettagliata e precisa dell'impatto economico. La domanda è qual è l'impatto economico di un campionato carnico che vede coinvolte circa una quarantina di associazioni, 1200 partite durante l'estate, un numero molto elevato di giocatori e la domanda è stata, e alla quale abbiamo risposto, qual è stato l'impatto economico negli anni precedenti e poi a venire del campionato carnico? Quindi si può dire che l'interruzione causata dal Covid-19, oltre a creare un danno ai tanti giovani e meno giovani che si divertono a giocare, a organizzare, a partecipare a questo grande movimento, è un danno anche dal punto di vista economico, un pezzettino di pil della carne è venuto meno. Assolutamente sì, perché i numeri che sono venuti fuori sono numeri tra l'altro prudenziali, perché è stata un'analisi molto precisa e dettagliata, ma ovviamente non ha la presunzione di essere una ricerca scientifica a tutti gli effetti, beh, numeri davvero importanti, 3 milioni e mezzo di euro, la mancanza di un campionato e quindi due campionati vuol dire 7 milioni di euro, per un territorio come questo una cifra davvero significativa. Torniamo sui quotidiani di oggi, cambiamo quotidiano, andiamo sulla prima del messaggero Veneto di Udine, in apertura, la terza dose di vaccino contro il Covid, terza dose per 400 mila, via libera agli over 60. La regione dice la prossima settimana le indicazioni sulle procedure. A centro pagina vediamo la cronaca con l'incendio in una villetta a Fagagna, muore una donna, sono arrivati in forza i vigili del fuoco per spegnere l'incendio divabbato nella sua villa a Villa Verde di Fagagna e l'hanno trovata morta stesa a terra sul pavimento della camera. Tra i suoi libri per Liana Comuzzi, 70 anni, ex infermiera, neanche gli operatori del 118 hanno potuto fare nulla. Di spalla le altre notizie di cronaca, cade con la motocicletta alla periferia di Udine, grave un uomo di Faedis, negozianti aggredita, le strappano la borsa fuori dalla porta di casa e poi rubati a Pavia di Udine 30 quintali di rame, il colpo alla Rotfer. Di spalla vediamo le altre notizie, indagine dell'IRES, come abbiamo visto in regione una famiglia su cinque è in difficoltà economiche e poi il bilancio dell'Inps, sforzo enorme per dare risposte alle richieste di sostegno. Nel taglio alto i temi nazionali con la vicequestore che protestò, è nominata dirigente sindacale, lo ricorderete la vicequestore al centro della polemica per la sua presenza sul palco di una manifestazione Novax e poi corteo no green pass a Roma, scontri fra manifestanti e polizia. Nel taglio basso, in via Mercato Vecchio, a Udine, il caffè commercio chiude i battenti dopo quasi un secolo. Ed è questa la notizia che troviamo sulle prime pagine del fascicolo di Udine del messaggero Veneto. Ecco qua, la fine di un'epoca, dopo quasi un secolo, il caffè commercio ha chiuso i battenti, era stato inaugurato nel 1926 dalla famiglia Pallini, l'imprenditrice cinese che lo rilevò nel 2011, ha lasciato. E poi invece nel taglio alto, Gustà Lepre, il locale di via Poscolle, entra nel comitato difesa osterie. Andiamo sull'edizione di Pordenone del messaggero Veneto e andiamo a vedere anche qui i titoli principali, vediamo l'apertura è la stessa, la terza dose del vaccino. A centro pagina invece la foto della nuova giunta Ciriani. Ecco qua, la prima riunione della nuova giunta Ciriani. Si sono ritrovati per la prima volta tutti insieme dopo il voto di domenica e lunedì scorsi, vecchi e nuovi assessori della seconda giunta Ciriani. Insieme a loro il sindaco ha formalizzato le deleghe e ha adempiuto ai passaggi burocratici preliminari alla presentazione pubblica che avverrà domani alle 11.30 in municipio. Nel frattempo il riconfermato primo cittadino ha già aperto l'agenda dei primi obiettivi, la destinazione dei 30 milioni di finanziamenti nazionali ed europei, la pratica di Ponte Meduna sul fronte delle opere pubbliche e la prosecuzione del decentramento dei servizi sociali. E vediamo appunto la foto della nuova giunta. Di spalla per la cronaca, ragazzo autistico picchiato, denunciati i due aggressori. Danneggia quattro auto indagato per guida in stato di ebrezza. Il ricordo dei morti del Vajont affidato a Mauro Corona. Nel taglio basso Design, anche a Pordenone, chiude un negozio storico. Ecco qua il titolo. Sparirà dal centro città un negozio che ha fatto la storia del design. Andiamo anche qui sulla prima pagina del fascicolo dedicato a Pordenone e provincia e vediamo che c'è la cronaca in primo piano con la notizia del ragazzo autistico picchiato. La polizia denuncia due minori. Entrambi i pordenonesi hanno 17 e 15 anni. Indagini e testimonianze degli studenti. Un caso risolto in 48 ore. La madre del bambino vittima di questa violenza dice «Non li odio, vorrei che capissero e cambiassero rotta». Chiudiamo le pagine del messaggero Veneto di Pordenone e concentriamoci adesso sullo sport. Allora ritorniamo un attimo sulla gazzetta e andiamo a vedere la prima pagina, anzi la pagina della gazzetta dedicata all'Udinese. Eccola qua, ecco il titolo. Quelli che scalpitano, titola la gazzetta. Samarzic e Beto, l'Udinese davanti a Fantasia e Gol. Due reti agli sloveni del Tabor Sejana. Gotti usa il 4-2-3-1. E i giovani lo ripagano. Un esperimento, ma molto serio perché quella che l'Udinese ha vinto ieri pomeriggio al Bruseschi 2-1 contro il Tabor Sejana che naviga nella medio-alta classifica del campionato sloveno è stata un amichevole solo nella prima parte. Poi gli ospiti l'hanno messa sul confronto duro e Arslan e Forestieri due che non ci stanno mai a farsi mettere i piedi in testa hanno risposto alle provocazioni ma ha risposto soprattutto la squadra di Luca Gotti che ha voluto vincere la partita e l'ha vinta nel finale grazie a un gol di piede di Beto. Queste le prime righe dell'articolo che troviamo oggi sulla gazzetta e allora io direi di andare a rivedere la sintesi, le azioni principali proprio dell'amichevole di ieri dell'Udinese. Buon pomeriggio e benvenuto al centro sportivo Bruseschi campo 2 si ferma il campionato ma non si ferma l'Udinese un test, un amichevole contro gli sloveni del Tabor Sejana molto in modo importante per provare nuove sensazioni e anche nuove alchimie tattiche. Norberto Beto è dunque da l'Udinese. Fischia Marini si parte è iniziata l'Udinese del Tabor Sejana questo virus gastrointestinale lo ha limitato intanto De Maio altro errore dell'Udinese in fase difensiva Stancic di nuovo a 2x2 con Padelli e porta in vantaggio il Tabor Sejana Stancic su un bruttissimo errore il retropassaggio dell'Udinese De Maio ha mancato il controllo altra difficoltà Saxes si libera benissimo in area Saxes attenzione che l'Udinese però non rinuncia ad attaccare con Soppi che entra nel rigore la mette dentro Palla lunga che arriva nel cuore dell'aria se la cava la difesa del Tabor poi ma Kengo col sinistro De Maio Providenziale in Tekel attenzione Stancic arriva Beffa De Maio Stancic Stancic Arslan Soppi buona la trama dell'Udinese Forestieri poi Arslan persone coordinata con Samarzic il break di Arslan Arslan zona tiro può calciare Bossa per Beto offenec da dietro fallo calcio di rigore parte il Tuku Pereira dal dischetto Pereira spiazza il suo ex compagno Jan Kopribez fa 1-1 per l'Udinese zona tiro Samarzic lo prova alla alta Forestieri entra in area di rigore da sinistra con l'esterro gran palla per Beto doppio passo dribbling di Arslan gran palla per Soppi Soppi aria di rigore Soppi salta un avversario la mette dentro Bossa per Beto e la vince la partita l'Udinese alla fine sull'asse Arslan Soppi Beto che aveva avuto altre due possibilità in precedenza poi scarica per Arslan Pereira ancora di ritorno per Arslan in area Arslan poi Wallace ma non c'è più tempo finisce qui vince 2-1 l'Udinese contro il Tabor Sezana in rimonta queste dunque le immagini dell'amichevole di ieri rimaniamo sulla gazzetta dello sport per altre due notizie veloci verso il Bologna agli under 18 e ai neo laureati andiamo a riprendere la pagina ecco qua biglietto a un euro per due gare questa l'iniziativa dell'Udinese per le prossime partite casalinghe e poi una curiosità dicevamo prima oggi la barcolana ci sarà anche il tecnico Luca Gotti in gara sulla barca Porto Piccolo Prosecco Doc ecco qua il tecnico in gara la barcolana con Porto Piccolo è un onore chiudiamo la gazzetta e andiamo sul gazzettino torniamo sul gazzettino del Friuli e vediamo anche qui le pagine dedicate allo sport ecco qua la prima pagina anzi andiamo cominciamo con la pagina dedicata all'Udinese Samarzic brilla in un sabato grigio riferendosi ovviamente all'amichevole di ieri molti gli errori nell'amichevole con il Tabor Sejana dove si è continuato a provare la difesa a quattro bene anche Arslan success esce dopo mezz'ora e poi il nuovo modulo tattico necessita di altre prove per essere assimilato scrive il gazzettino per quanto riguarda invece le voci dalla Turchia Togai e potrebbe raggiungere Okaka a Istanbul queste le voci di mercato riportate oggi dal gazzettino chiudiamo il gazzettino e andiamo adesso sulle pagine del messaggero Veneto messaggero Veneto di Udine vediamo anche qui i titoli principali ecco la prima del fascicolo sportivo basta un quarto d'ora per salvare l'Udinese da una sconfitta nel test con il Tabor provato il nuovo modulo contro gli sloveni davanti fino al settantacinquesimo poi un rigore trasformato da Pereira e la rete all'ottantanovesimo di Beto l'avevamo sottolineato in settimana i quarti d'ora finali sono un'autentica miniera di gol per l'Udinese il 45% di quelli segnati finora in campionato sono arrivati sul rettilineo conclusivo delle partite e i bianconeri federi al cliché l'hanno ribadito anche ieri nell'amichevole disputata al Bruseschi contro il Tabor Sejana formazione che galleggia a metà della classifica della massima serie slovena guidata dal coper e poi vediamo tutto l'articolo che prosegue ci sono anche le parole di forestieri che ammette cambiare non è facile e poi invece nel taglio basso il punto success possibile stiramento Deulofeu lavora con il pallone chiudiamo questa pagina e andiamo a vedere anche la pagina in cui si parla di Pordenone prima la Ternana poi i problemi in trasferta i neroverdi riprenderanno Alteghi quindi gli impegni esterni con Pisa e Como fondamentale rompere il ghiaccio in casa titola il messaggero e poi dal calcio al basket perché oggi torna in campo anzi sul parquet del Carnera l'Old Wild West al debutto al Carnera occhio a Casale prima di campionato in casa pronostico tutto per l'Apu ma Nobile non si fida e dice ricordate l'anno scorso testa al match fischio d'inizio questo pomeriggio alle diciotto e gara che potrete seguire in diretta su Udinese TV prima di salutarci vediamo velocemente anche le prime pagine degli altri quotidiani sportivi Corriere dello Sport e tutto sport eccole qua il Corriere dello Sport titola riviva l'Italia Nations azzurri in campo per scalare il ranking FIFA e aprire una nuova serie Mancini cambia contro il Belgio Raspadori con Chiesa e Berardi e poi il caso Vlaovic nel taglio alto il tecnico Viola entra a piedi uniti e dice lasciatelo in pace Dujan darà tutto per la Fiorentina nonostante il mancato rinnovo noi siamo partiti bene ma possiamo migliorarci Inter favorita per il titolo e andiamo anche sulla pagina sulla prima pagina di tutto sport e vediamo in apertura Vlaovic Premier o Juve inchiesta fra gli operatori di mercato sul bomber Viola Piombano City Liverpool Tottenham e Newcastle grazie ai milioni sauditi ma Dujan è intrigato dall'interessamento dei bianconeri e l'ultima parola spetterà a lui e poi vediamo nel taglio alto miracolo Mancini si parla ovviamente della nazionale Italia campione d'Europa nonostante gli italiani siano solo il 34% e oggi la nazionale va a caccia del terzo posto in Nation League contro il Belgio senza Lukaku Raspadori titolare stasera finale Francia Spagna Rabiot KPO positivo al covid e questa è la prima pagina di tutto sport con la quale chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi allora come sempre vi ricordo velocemente i principali appuntamenti di questa domenica sul nostro canale il Tg ritorna in diretta alle 10 poi ancora alle 12 alle 15 l'amichevole under 17 tra Verona e Udinese ecco qua la grafica che ci ricorda l'appuntamento delle 15 per questa quinta giornata di campionato under 17 gli altri appuntamenti di oggi alle 18 come detto un'altra diretta quella della gara di basket tra Udine e Casale poi alle 19 il anzi nell'intervallo lungo della gara di basket il Tg Flash di oggi alle 21 documentari viaggi e turismo e poi alle 22 30 l'ultima edizione del Tg è davvero tutto per il momento grazie come sempre per aver iniziato la giornata in nostra compagnia e ancora una buona domenica a tutti voi e ancora una buona domenica